Si è sentito un boato, io ho detto, oh che si è un tono, un anno. Si sarà caduta la facciata della chiesa, mi ha detto. Un boato all'alba ha svegliato i residenti di Oliveto, piccolo borgo del comune di Civitella in Valdichiana. Improvvisamente si è staccato tutto il rivestimento della chiesa del paese. E dispiace perché l'ha fatto uno qui dell'albergo e faceva lo scarpellino. E allora ha fatto lui, tutta lui la chiesa l'ha fatta. La chiesa parrocchiale di Sant'Andrea è nella parte più alta del borgo, che si trova nel comune di Civitella in Valdichiana. Nessuno è rimasto ferito, il crollo è avvenuto all'alba. Per fortuna, io tante sere vado lì nei scalini con il cellulare a prendere il fresco. Anche altri signori a volte si mettono lì fuori a parlare. L'ultimo restauro nel 1947. Sul posto è arrivata la soprintendenza. Primo sopralluogo da parte della soprintendenza. Primo perché stamani verso le 5 e mezzo è stato avvisato dai vigili del fuoco il soprintendente che mi ha incaricato di venire qui per vedere la situazione. Andiamo dentro per vedere la situazione anche dentro, per vedere se la chiesa va inibito anche l'accesso all'interno. Nelle scorse ore ci sarebbe stato il distacco di alcuni frammenti di pietra. Il parroco, che oggi preferisce non parlare, non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto poche ore dopo. Perché di sera Don Guattiero spazzo lì e vedi che c'erano i cosigni, i calcinacci. Sassi, i calcinacci, sì. Sì, a volte, io anche l'anno scorso, lì notai io i calcinacci. L'avevano già notati anche Don Guattiero e l'avvisai di questi calcinacci. Io non so perché a noi come soprintendenza non eravamo stati avvisati se c'erano già dei dissesti. Con la Curia ci confronteremo per vedere immediatamente i lavori da fare. Come amministrazione comunale siamo dispiaciuti dell'accaduto perché comunque la piazza Oliveto con la sua chiesa è una piazza simbolo del nostro territorio. Siamo subito intervenuti con i nostri tecnici per andare a mettere in sicurezza l'area seguendo tutte quelle che sono le indicazioni dei vigili del fuoco.